Tsunami NO GUNA 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 Sì ragazzi benvenuti in questo nuovo video dei ProGamer's Italy che cazzo cominciamo benissimo con i connetti controlle oggi siamo in un amichevole sempre io, Daniele Nicola e stavolta ci abbiamo con un talentese su selve ciao e questo è diciamo uno speciale quasi e questo che cazzo succede? allora il mio ciasco è un ciasco questo è uno speciale è uno speciale che ci vuole iscrivervi se Daniele non fai tuttu sei tuttu sei tuttu vai cazzo ahhh chi sono io? ti denuncio per dai ragazzi Daniele sta giocando con il Bayern e noi siamo Daniele e Tsunami Tsunami non so giocare oh tu 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 proprio tu si tu 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 puoi tu è solo mannaggia ti fissi ragazzi ma pensi anche Giorgio Maranda per tu tu oh vabbè si ha già puttu tu no ragazzi ragazzi se Dio ce ne manda buona a quanto? se Evan Colosi ce ne la dami a 50 facciamo ora si tratta e guarda per il livello ma questo è una questione mezzo non è che la cosa non è che la cosa tutto nuovo non è vero il mondo romea roben e' apprezzo e' apprezzo tanna ci vuoi senta tanni 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 ti ricordi che ho un video e non tanna riberiii tetti riberii tanna riberiii non hai la pt ma tanna si fatti più forte come l'ho detto nonostante non c'è ma va in mezzo non c'è non ci faccia oh ma chi è tanna ma c'è ma ti è passata ci vuoi farlo tanni passa la roba la scuola uovo sto scioccante sta scioccante se ci senti danni ti chiedi il canale corrotto ti chiediamo il canale ragazzi si chiediamo il canale e il verde e il verde quindi se siete il verde ragazzi il canale sarà in attimo ma no in attimo per sempre nooo nooo boh oh oh so che fa fuori palla netta no boh ma dai mi sono seconda gianna mezzo ah boh è il lucao ma tutti i cosci mezzo oh e pigia mamma mia velocità nooo l'allocatore è bruno ma che devi sembra robin bruno tu ferma di quali fessi passaggiare al suo terzo butta mano un po' come c'è un grosso aspetta metti l'esercizio l'esercizio giocco l'esercizio per le basse che esercizio metti appiccia i baffi in buco non si accoltano a visita l'insa che fa mi fai mi fai mi fai mi fai mi fai muatana no 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 mannaccio 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 non si può fare ma com'è gli aspetta che le mani a me non si chiama fuori giochi fa saput boh 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 la pina la pina c non no amica non po nico era bello era bella NACC eh dove passa? dobbiamo segnare dobbiamo vincere vai TANNO no TANNO l'avevo capito mannaccio ma io ce l'ho fatto no 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 non ci gioca più subito non ci gioca più con TANNO no l'ho fatta non è sciato è impossibile TANNO è TANNO è TANNO non le staglie non le staglie non le staglie incontro sono P escrivete un po' di hanno castito ma eravamo no ma no la città di l'acqua è così è un po' non c'è ma è un po' di GRIZZIANRO Perciò 30 mi piace 30 30 si ragazzi Sono d'accordo Daniel dove va Company Mind Pericolo Tenta Si vuole un tiro in giro Poi non sto là Hai capito? Non ti scelgo Tutti tu ti ho parlato Non colore ti vai Nel manicomio vanno bene Nel manicomio vanno bene Nel manicomio vanno bene Tutti ben Oh no Oh Longshot No 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 C'è un bacio Su 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 Non lo so Non lo so Non lo so Vai darci dare gli danni Guarda Tu non lo vanno Tanni vai Tanni vai Tanni ce lo deve un po' il corso Tanni vai Tanni vai Tanni Tanni Di nuovo Nicola Oh Guarda fa un magno di te Amore mio La tolcio di te Siamo Oh Oh Tero Tano Quello è tuo Tanni Mancano tre 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 Peniti C'è Daniele contro Nicola E help No A Watena mi piace Facciamo uscire il prossimo A 40 facciamo la sfida di Daniele No A 40 Neanche il primo video Allora ragazzi A 35 mi piace la sfida Daniele contro Nicola A 30 invece Scrivete nei commenti chi vincerà A prossimo aggiuntamento con Pro Games Italy Bella